Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. Cattive notizie per i sostenitori del passaggio del comune di Gela all'area metropolitana di Catania. Ieri all'Assemblea regionale siciliana è stata di fatto bocciata la migrazione. Sentiamo. Gela dovrà abbandonare il sogno di entrare nell'area metropolitana di Catania, che ricordiamo per portarla avanti ci sono volute due delibere consigliari e soprattutto l'intervento della popolazione con consultazione referendaria confermativa. Che cosa è accaduto ieri all'Ars? Sono stati bocciati con voto segreto gli atti con i quali si ridisegnavano i confini territoriali dell'ex provincia. I comitati gelesi non ci stanno. Liliana Bellardita di Gelensis Populus. Dal nostro punto di vista si è creato una sorta di braccio di ferro tra l'Assemblea regionale e la Giunta. Mi pare che per partito preso l'Assemblea regionale bocci tutto quello che giunge dalla Giunta. La motivazione sostanzialmente sta nel fatto che la prima commissione, e in questo l'Assemblea poi ha sposato questo pensiero, ha ritenuto che questi disegni di legge dovessero essere accompagnati da una relazione tecnica che in realtà spiegasse nello specifico quello che era la regolazione dei rapporti di natura patrimoniale, del personale, i rapporti tra dare e avere, tra tutti gli enti che erano interessati da questo passaggio. In assenza di questa relazione tecnica, la prima commissione, così come anche ieri pomeriggio l'Assemblea regionale, ha ritenuto che questo passaggio fosse una sorta di salto nel buio. Bene, e adesso non ci potranno essere delle soluzioni alternative e soprattutto abbiamo notato la presenza assidua nei comuni interessati del Sindaco Bianco e oggi il silenzio invece è assordante. Oggi il silenzio è assordante perché io non sottolineo sempre che qualunque tipo di impugnativa governativa relativamente alla legge 15 del 2015, ha visto come promotore, anche se è un promotore tra virgolette occulto, l'Anci nazionale, per cui qualunque tipo di impugnazione da parte del Governo nazionale nei confronti della nostra legge e qualunque battuta d'arresto si è avuta a seguito dell'interessamento del Lanci nazionale. Non scordiamo che Bianco è la seconda carica più importante nel Lanci nazionale. Certamente ci saremmo aspettati un suo interessamento maggiore, visto l'interessamento che lui aveva manifestato per avere la riaffermazione del principio, della coincidenza del Sindaco metropolitano con la figura dei sindaci che reggevano le tre comunità, cioè Palermo, Messina e Catania, e all'indomani dell'ottenimento di questo, Bianco è come se si fosse dissolto. Sulla vicenda Liberi Consorzi interviene il portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, Filippo Franzone, lo abbiamo sentito. Franzone, bocciata ieri all'Assemblea regionale siciliana il ridisegnamento dei confini dell'ex provincia, i comitati non ci stanno, chiaramente non accettate questa votazione peraltro con voto segreto, adesso quali saranno preso atto della situazione le prossime strategie, se c'è ancora secondo voi una speranza? Diciamo che non siamo per nulla stupiti di quello che fa l'Assemblea regionale, ormai credo che non solo noi come comitati ma tutti i cittadini e non solo Gelesi ma di tutta la Sicilia abbiano capito cosa fanno i parlamentari all'interno del Parlamento regionale, di certo non più gli interessi dei cittadini siciliani. Bene, dopo una scelta avvenuta attraverso due deliberi consigliari e un referendum, il Parlamento regionale si arroghe il diritto di poter non far passare gli esami, appunto, i disegni di leggi di variazione territoriale. Ovviamente questa non è la fine, ce l'aspettavamo, eravamo preparati a questo, di fatti avevamo diffidato sia il Presidente della Regione che l'assessore regionale alle autonomie locali e alla Landieri a non indire le elezioni perché noi già il sentore di quello che stavano cercando di combinare in assemblea regionale l'avevamo già. Bene, per noi non è cambiato assolutamente nulla, ci preparavamo ad imbugnare le elezioni dell'ente intermedio per bloccare appunto questa riforma e far sì che il passaggio di Gera, Piazza del Merino e Niscemi avvengano nel più breve tempo possibile e questo continueremo a fare. Siamo sulla retta via, come si suol dire. Mi sento di poter dire ai nostri concittadini, ma anche ai cittadini di Niscemi e Piazza del Merino, che per fare un esempio magari banale, abbiamo per la prima volta il coltello da parte del manico. Questa è una scaramuccia fatta dal Parlamento regionale per cercare di intimidire e scoraggiare le popolazioni di questo territorio, non hanno capito con chi hanno a che fare. Siamo gelesi, siamo piazzesi, siamo niscemesi e siamo soprattutto ben motivati. Il ricorso al TAR, quali motivazioni avrà, su quali argomenti sarà fondato? Sul fatto che nel momento in cui loro indicano le elezioni i territori non sono quelli previsti dalla legge 15 e quindi non è stato applicato l'articolo 44 della legge 15. A quel punto salta l'intero programma del Parlamento regionale, ovvero quello di togliere i commissari e indire le elezioni. E quindi ci dispiace questo perché questo provocherà disagi appunto alla gestione dei liberi consorsi di città metropolitane, ma la colpa non è nostra, la colpa va ricercata nella mancanza di democraticità dei parlamentari siciliani. E intanto appresa la notizia, l'amministrazione comunale annuncia battaglia. Sentiamo. Anche l'amministrazione comunale di Gela interviene dopo la discussione all'Ars sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli del DDL relativi all'adesione della città del Golfo alla città metropolitana di Catania. Il punto all'ordine del giorno, cioè la non discussione del disegno di legge, è stato approvato nella seduta di ieri. Ora il governo regionale ripresenti con urgenza un nuovo disegno di legge prima della convocazione dei comizi elettorali, ha detto il primo cittadino di Gela, Domenico Messinese. Quello che si è consumato ha continuato. Il sindaco è un grave atto della regione siciliana che continua a mantenere nel limbo i comuni che hanno già deliberato il passaggio. Interviene anche l'assessore comunale Francesco Salinitro. Sono risibili le motivazioni della Commissione Affari Istituzionali all'Ars per il quale persino le inadempienze regionali sono state adotte come motivazioni per non votare nuovi confini territoriali. È la falsa informazione che il referendum si riferiva all'adesione al libero consorzio di Catania e non alla città metropolitana, dimenticando che in Sicilia esistono solo liberi consorzi, dei quali tre sono definiti città metropolitane. Un atto contro le leggi che la stessa regione ha scelto di darsi. Un atto irridente ha concluso Salinitro nei confronti della città di Gela e dei comuni che hanno compiuto scelte di libertà. L'amministrazione comunale annuncia battaglia, è inaccettabile e non finirà qui, hanno detto ancora gli amministratori comunali. In Sicilia è in gioco il valore e il senso della democrazia. Siamo alla cronaca, aveva fatto perdere le proprie tracce ma dopo dieci giorni di latitanze, carabinieri del reparto territoriale di Gela lo hanno rintracciato presso l'abitazione di un suo amico. Le manette sono scattate ai polsi di un pregiudicato di 19 anni, SM disoccupato gelese. I militari lo avevano cercato nella sua abitazione dove era detenuto ai domiciliari ma il giovane sembrava essere sparito nel nulla. Gli stessi genitori erano ignari su dove fosse andato. Da lì è iniziata la ricerca, i carabinieri giorno dopo giorno sono riusciti a stringere la cerchia attorno al ragazzo fino a scovare il nascondiglio del giovane gelese il quale era andato a rifugiarsi presso la casa di un amico a Gela, un personaggio ritenuto pericoloso dagli inquirenti poiché ha assunto rassiduo di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito il 19enne è stato trasferito al carcere minorile di Caltanissetta. Una delegazione della dodicesima commissione parlamentare permanente igiene e sanità del Senato della Repubblica sarà in missione a Caltanissetta per svolgere un'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale, sull'incidenza dei tumori e delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetica nel territorio di Gela. I lavori della commissione si svolgeranno domani dalle 10.30 presso la prefettura nissena. Luigi Diddio, Reset 4.0 oggi rileva una situazione per voi politicamente sgradevole che è accaduta all'interno del Consiglio Comunale. Ci vuole spiegare che cosa? Bene, noi di Reset 4.0 abbiamo presentato una mozione per allargare alle famiglie bisognose l'assegno civico. Sono stati stanziati dall'assessorato alla famiglia pochissimi soldi e solo 111 famiglie usufruiranno di questo beneficio. Noi abbiamo presentato una mozione per impegnare l'amministrazione a utilizzare altre risorse affinché altre famiglie possono beneficiare di questa situazione. Intanto diciamo di quanto sarebbe questo sussidio? Il sussidio è di circa 3-4 mesi di lavoro presso il Comune. Alcuni consiglieri con tracotanza hanno preferito abbandonare l'aula proprio perché era Reset 4.0 a trattare questo punto perché sono stato parecchio duro nei consigli precedenti con il PD regionale e nazionale sia sul caso della sanità e sia sul caso Eni. Lei quindi ritiene le due situazioni connesse? Nello specifico in aula che cosa è accaduto e quali sono state le vostre reazioni? Sì, c'è stata la reazione del capogruppo PD che ha dato ordini di abbandonare l'aula ai suoi. Molti non l'hanno fatto per senso di proposta perché hanno visto che la proposta era valida. Per esempio il consigliere Biundo e il consigliere Gallo sono rimasti in aula a trattare il punto. Sostanzialmente dunque il documento non è passato? Sì, il documento ora viene rimandato a settembre perché io l'ho ripresentato e in sostanza queste famiglie la lista non potrà scorrere tranne che l'amministrazione non faccia suo comunque l'impegno. Comunque a prescindere dalle posizioni politiche quando ci sono atti importanti per la città non si può scendere sulle beghe dei partiti ma bisogna rimanere in aula e a dibattere sulle problematiche che ci sono. Poi le beghe, le polemiche vanno fatte e il confronto ci deve essere. Non tutti siamo dello stesso partito e non tutti la vediamo allo stesso modo. Un'ordinanza della Polizia Municipale ha disposto nuovi sensi di marcia in alcune arterie del centro storico. Le strade interessate dai cambiamenti nelle opposte direzioni sono un tratto di via Morello, via Miramare e via Pisa. L'ordinanza segue la logica delle recenti disposizioni di dare più centralità al parcheggio Arena. Via Miramare collegherà il centro storico con l'ingresso della struttura. Un'altra ordinanza che interessa il centro storico riguarda Vico Santa Lucia. Dopo un confronto tra l'assessore Eugenio Catani e residenti nello spazio urbano è stata istituita un'area pedonale. Sono passati cinque anni dalla scomparsa di Don Giulio Scuvera e il centro di cultura e spiritualità cristiana Salvatore Zuppardo e assieme all'associazione Gaudium et Spes Don Giulio Scuvera lo ricorda nella parrocchia San Tommaso a Butera. Appuntamento previsto per sabato 23 luglio alle 19 con una solenne celebrazione eucaristica. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo che il saggio della scuola di danza dell'insegnante Claudia Traenito andrà in onda sulla nostra emittente domenica 24 luglio dopo il TG Silos intorno alle 20.30. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Nell'ambito del percorso formativo Anche tu puoi salvare una vita, l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia, coordinata da Orazio Coccomini, organizza un corso di formazione come esecutore BLSD. L'iniziativa si svolgerà sabato 30 luglio prossimo con inizio alle 9 presso l'aula di formazione della sede operativa di Via Falcone incontra da Brucazzi. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 28 luglio. Gli interessati per informazioni e iscrizioni possono contattare gli uffici al numero 0933 91 44 19 oppure inviare una mail a giubbeditaliagela.com oppure contattare la pagina Facebook Giubbe d'Italia Gela. E si terrà nei prossimi 27, 28 e 29 luglio il corso di formazione di primo e secondo livello rivolte ai volontari delle associazioni che aderiscono al coordinamento regionale sanità. L'evento è organizzato dalla pubblica assistenza Procivis, protezione civile di Gela in collaborazione con l'assessorato alla salute della regione siciliana e si terrà nei locali di Via Ossidiana al numero 23. Passa da Gela un pezzo della via francigena di Sicilia che un gruppo di studiosi hanno riportato alla luce. Grazie alla sinergia tra Cantiere Gela, la Casa del Volontariato e la Piccola Casa della Divina Misericordia la città gelese offrirà ospitalità a 10 pellegrini in cammino già da alcuni giorni. Con la collaborazione della Proloco Gela e dell'associazione Geloi Triskelion si getteranno le basi per segnare tramite apposita segnaletica il percorso litoraneo della via francigena che passa da Gela e il supporto logistica ai pellegrini. Il gruppo dei camminatori della via francigena di Sicilia sarà accolto oggi dai volontari della comunità urbana di Cantiere Gela e sarà ospitato per una notte presso la Casa della Divina Misericordia. Alle 17 arriveranno in città, alle 18 saranno in Piazza Umberto I e alle 19 è previsto l'incontro presso la Piccola Casa della Divina Misericordia. L'occasione servirà per fare il punto sulla via francigena in Sicilia e sulla tappa di Gela per provare a tracciare il percorso come avviene in altri paesi del mondo dando informazioni e supporto logistico ai pellegrini che decidono di mettersi in viaggio alla scoperta degli altri e di se stessi. Primo trofeo podistico Ivan Siciliano si terrà domenica 31 luglio prossima a Marina di Acate. L'iniziativa è dell'associazione contro le stragi del sabato sera preseduta da Salvatore Siciliano in collaborazione con l'Atletica Padua Ragusa e l'Atletica Mazzarino. La gara avrà inizio alle 17.30 ed è valevole come undicesima prova del Grand Prix Provinciale Senior Master. Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 27 luglio prossimo all'indirizzo siciliachiocciolamaisdam.it. Attendono ancora il pagamento dello stipendio di aprile dei mesi successivi 357 dipendenti dell'IRSAP tra cui 22 lavoratori in servizio nei locali dell'ex consorzio Asi di Caltanissetta che in accordo con le sigle sindacali hanno deciso di dichiarare lo stato di agitazione e chiedere un incontro con il prefetto Maria Teresa Cucinotta per avere risposte sul loro futuro lavorativo. Solo un acconto del 10% è stato versato nei loro conti correnti nel mese di maggio. Una situazione drammatica per i lavoratori e le loro famiglie. Abbiamo ritenuto indire questo stato di agitazione dinanzi alla massima autorità del governo del territorio di questa provincia e la sua eccellenza del prefetto perché potessimo assieme contribuire a sensibilizzare il governo regionale nel affrontare questa problematica e prendere atto che se quella riforma è una riforma che non è riuscita a decollare ad oggi e quindi con tutto quello che ne consegue sia in termini di gestione di un volano dell'economia che dovrebbe essere quella delle aree di sviluppo industriale in Sicilia e quindi il personale che contribuisce a far funzionare queste ente ci sono delle ricadute sul territorio e nei territori della regione Sicilia non indifferente. Nonostante siano passati 4 anni dalla riforma, l'IRS è rimasta una scatola vuota, non ha formalmente dipendenti ma paga 13 milioni e 700 mila euro all'anno per il personale. Le risorse economiche degli ex consorsi sono sempre più esigue e le somme che arrivano dalla regione non sono sufficienti per la gestione. La legge 8 del 2012 a quel tempo voluta l'assessore Venturi lo scopo era che ci doveva essere un coordinamento unico non da anni A e 70 centri di controllo ma bensì un solo organo di controllo. Questo organo di controllo doveva servire a coordinare tutte le attività produttive della nostra isola per rilanciare l'economia disastrata della nostra regione. Oggi però vediamo che a 4 anni di distanza l'IRSAP non decolla, centri di controllo non ce ne sono più in quanto le ASI non esistono per legge, l'IRSAP non viene istituito per cui non abbiamo nemmeno un punto di riferimento. Da tutto ciò cosa vuol dire? Che la nostra regione Sicilia è allo sfascio. Non abbiamo più un'attività produttiva coordinata, non sappiamo più in quali indirizzi economici dobbiamo andare e quali sono i nostri settori strategici. A oggi tutto è demandato così, alla corlona possiamo dire. La politica in questo caso è il latitante perché non dà delle direttive ben precise e questo crea una confusione terribile. Si rinnova l'appuntamento con la manifestazione L'Estate Gelese con la musica colta, promossa dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela con il patrocinio del Comune. Domenica 24 luglio alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedettine è prevista il concerto lirico delle trio Micaela D'Alessandro, soprano, salvo di salvo, baritono e analisa mangano al pianoforte. Il direttore artistico della manifestazione è il maestro crocifisso Ragona. Proseguono gli appuntamenti con i venerdì letterari all'Eschilo Lab di Gela. Domani alle 19.30 la libreria Mondadori, in collaborazione con l'assessorata alla cultura, presenterà il libro I prigionieri di Sirte di Nino Milazzo. Dialogherà con l'autore Roberto Tufano. Attenti a quei due, lo spettacolo teatrale che sarà portato in scena dalla Compagnia Antidoto presso la piazza Antistante, la chiesa Santa Maria di Betlemme. Domenica 24 luglio prossima alle ore 21.00 l'evento è promosso dal Comune di Gela. Non lo faccio più, invece, la commedia che sarà portata in scena dalla Compagnia Teatrale Antidoto di Gela domani alle 21.00 presso l'arena all'aperto del Teatro Antidoto. L'ingresso è di 5 euro a coppia. Sabato 30 luglio alle 21.30 invece, Giobbe Covatta presenterà la Divina Commediola. In questo caso il biglietto costerà 10 euro. È tutto anche per questa edizione. Grazie per averci seguito fin qui. Arrivederci. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.